L'intento è voler fare una realtà importante secondo le nostre possibilità, sicuramente il massimo impegno, la massima dedizione, non nascondo che magari c'era un po' di stanchezza, diciamo stanco io, stanco Alessandro, in due ci siamo un po' ricaricati, tutte le persone che fanno parte della società ora veramente sono carichi per affrontare questa stagione, stanno lavorando già diverse settimane senza sosta, senza risparmiarsi e penso che sia la strada giusta, pertanto siamo già soddisfatti di quanto fatto. Una doppia stanchezza che però si è trasformata in nuova energia per partire insieme questa nuova avventura, dalla prima squadra in giù, tante le categorie, tanto l'impegno, un doppio impianto con appunto un unico intento, quello di portare in alto il nome di Pomezia nel mondo dello sport. Sì, ecco sicuramente possiamo vantare il Selva dei Pini che è una struttura che conosciamo tutti per la bellezza e questo fantastico stadio, speriamo che insomma, ora sapete anche le vicissitudini che ci sono sulle assegnazioni, credo, noi siamo tranquilli perché di fatto voglio dire abbiamo lavorato bene con il vecchio ente che gestiva le strutture, oggi c'è un nuovo interlocutore, insomma speriamo che ci diano fiducia in questo senso. Una linea di continuità, quella che porta avanti appunto da tanti anni e che adesso abbiamo detto con questa nuova fusione si rinforza, per quanto riguarda la prima squadra al di là di quelli che possono essere gli obiettivi strettamente collegati alla nuova stagione, al proseguimento del rapporto con Punzi, nel lungo periodo quali possono essere gli obiettivi di crescita del Pomezia? La serie A, nel senso no, allora Francesco Punzi che ringrazio per averci dato nuovamente fiducia, lavora con noi in modo impeccabile, siamo una società che lo lascia lavorare serenamente, stiamo investendo diciamo su una rosa piuttosto competitiva ma non è detto che chi più spende arriva prima, pertanto staremo a vedere quello che ci regalerà, le emozioni che ci verranno regalate ogni domenica, siamo ripeto tranquilli perché sia i ragazzi che sono arrivati giusto ieri, sia i ragazzi che sono stati confermati, trovo che sia veramente un bel mix, possiamo toglierci tante soddisfazioni. L'ultimissima, dovendo dare un messaggio alla comunità promettina, cosa si sente di dire in quanto Presidente? Semplicemente con un pizzico magari di rammarico, in questi anni non siamo stati seguiti moltissimo, spero che un pochino ci premino seguendoci anche durante la settimana, venendo a vedere gli allenamenti, seguendo i ragazzi, dalla prima squadra veramente ai primi calci, proprio per farci, darci modo insomma di sentirci anche un po' più motivati, nel senso è bello quando sei stimato, quando hai stimato il lavoro che fai, quando c'è comunque sia anche che la popolazione è felice, questo è uno spettacolo fondamentalmente, pertanto se riusciamo a farli divertire in qualche modo saremo soddisfatti. Speriamo che ci seguiate il più possibile, siamo qua. Allora Presidente, parte questa nuova avvincente, emozionante avventura, questo matrimonio tra il Selva Divini e il Pomezia Calcio, un'ottima dimostrazione di unità di intenti per creare un unico polo sportivo nella città. Esattamente sì, questo qua è la nostra intenzione, sicuramente porteremo avanti questo progetto che da anni che comunque cercavamo di avvicinarci in qualche modo, fortunatamente abbiamo trovato tutti i vari punti giusti per poter realizzare questo nostro sogno che alla fine penso che sarà anche di tutti i nostri concittadini perché poi alla fine creare un'unica società forte dove può dire e comunque in qualche modo farsi rispettare in tutto il territorio provinciale e magari anche regionale, non voglio esagerare, sarà sicuramente un banto per tutti noi. Il Selva Divini ha eccelso non soltanto dal punto di vista sportivo, nel recente passato una breve storia di vita ma intensa, anche ha inciso positivamente dal punto di vista dei valori che ha trasmesso ai ragazzi che ne hanno vestito i colori e questo verrà automaticamente trasferito anche al Pomezia che ha fatto altrettanto, quindi unendo le forze, che tipo di messaggio si dà alla comunità, ai genitori che sono intenzionati a far sì che lo sport possa diventare un veicolo sociale appunto per i ragazzi. Sì, sicuramente si continuerà con questa nostra filosofia, cercheremo di comunicare appunto a tutti i nostri ex tesserati e futuri tesserati e comunque in questa società la nostra prima regola è quella comunque appunto di avere rispetto sia del gioco, delle regole del gioco esatto appunto, questa è la nostra prima prerogativa. Quindi tornando al discorso del nostro lavoro, devo dire che anche qui nel Pomezza Calcio abbiamo trovato comunque una buona filosofia insomma per quanto riguarda la sfera calcistica, devo dire insomma alla fine abbiamo fatto un bel mix, una bella, come si dice, una pozione che vedrà, che si vedrà a lungo andare. Ci sono state parole importanti rivolte nella sua persona appunto alla dirigenza del Pomezza. Allora ricambiando questo gentleman agreement, come possiamo dire così, in che modo può definire lei la dirigenza del Pomezza e che cosa ha trovato in queste persone con le quali appunto si è unito? Ma io comunque ho trovato diciamo della gente capace, comunque preparata, tutta ormai insomma poi non devo io dire diciamo quello che hanno fatto negli anni scorsi, comunque parliamo di persone che da anni che stanno in questo ambiente, quindi stanno benissimo e conoscono benissimo e ha la lettera tutto quello che è il diciamo lo scenario, quindi ho trovato delle persone veramente qualificate e poi questa che è fondamentale, molto ma molto motivate. Questo secondo me è proprio il succo della diciamo della, chiamiamola arma vincente. Allora l'ultimissima, che tipo di messaggio si sente di lanciare verso la comunità pometina che rappresenta? Io spero che tutti coloro che appunto che hanno sentito appunto di questa nostra fusione possano magari almeno provare e comunque informarsi di quello che noi stiamo facendo. e li invito appunto a venire a capire e approfondire le vere nostre intenzioni, che è cosa che comunque uno deve almeno provare, diciamo così.